allora intanto grazie mille a tutti per essere qui perché diciamo non è sempre scontato ne parliamo prima dopo il covid questa cosa in presenza si è un po spenta ormai tutti guardano le slide tutte le presentazioni online dicono ma si tanto e streaming invece secondo me in presenza c'è più networking c'è contatto e quindi siamo qui veniamo qui oggi a parlare grazie ai nostri sponsor perché il gestire una qualcosa in presenza richiede soldi richiede tempo quindi un grazie a tutti gli organizzatori perché non è scontato che comunque sia ci siano persone che con pazienza e con soldi permettano questi eventi e iniziamo a parlare di come sviluppate le vostre librerie interne perché poi se siete un'azienda non piccolissima o che magari non fa un unico prodotto in cui dice una solution c'è tutto dentro avete delle librerie del codice che viene dotnet stiamo parlando ma in generale quello che vi dico vale per tutto quindi come le gestiamo che intendo come le sviluppiamo perché come dice vabbè apro il compilatore apro il suo studio e sviluppo che devo fa che cosa altro che cosa altro c'è ecco molto spesso quello che succede è che ci sono un po' di persone aprono visto a studio fanno codici da chi aveva sviluppato la libreria dei login già maria te la do per mail diciamo ci sono delle cose ho visto nel corso degli anni dei strani orrori orrori di vario tipo che poi portano anche a problemi in produzione diciamo come delle volte qualcuno lo gestisce la maniera sbagliata ovvero sono un po' di persone che sviluppano codice poi in qualche modo siamo lo stesso ufficio da casa ce le scambiamo dai vuol dire non non ci stiamo banalmente ho visto e potrebbe anche funzionare buttare delle dll su file server c'è un file server ci butto delle librerie dll ma se fossero cose javascript ci potete buttare roba javascript per poi vedere delle cose meravigliose del tipo esplode il software in produzione e uno dice cavolo ma perché è perché quando siamo andati in produzione le dll nel file server erano cambiate quindi la persona ha preso preso dll nuove le ha sbattute dentro ci ha fatto due test si compilava peccato che magari dentro il codice era cambiato e quindi non funzionava più niente quindi ecco iniziare a buttare dll su file server non è forse la cosa migliore ma non ho vissuto peggio ho visto il packaging va email mi spedisci una mail con le dll della libreria di logging qual è la libreria di logging che avevamo usato nell'impianto in turchia perché sto notando che nell'impianto in turchia ho 12 giga di log sulle macchine e nonostante io abbia cambiato il livello di logging non funziona il ricordo che giammaria o marco qualcuno aveva cambiato la moda bla 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 ecco storie di questo tipo se ne sono viste ora c'è un termine che negli ultimi anni è diciamo sta sorgendo che inner source o inner sourcing e secondo me voi qualche volta l'avete sentito lo dovete dovete aver sentito per forza e comunque sia vi ricorda non a caso l'open source cioè noi stiamo abbiamo un quantitativo smisurato di codice open sviluppato manutenuto e che funziona tante volte dannatamente bene alcune volte meno male tutto il mondo open source appunto perché è un mondo open dove io posso sviluppare una libreria e poi arriva pinco pallino dal giappone che sviluppa con me in un altro fuso orario si dà delle regole delle regole chiare precise su come si sviluppa il codice su come si fanno alcune operazioni e siccome questo modo funziona perché non portare le buone pratiche dell'open source all'interno del nostro codice aziendale quindi se noi sviluppiamo del codice privato nostro che non è assolutamente open perché non utilizzare le stesse modalità che tanto bene funzionano all'open source e ad esempio per le librerie cosa possiamo usare ambiente dot net ma quello che vi dico vale poi con le dovute differenze tecnologiche un po per tutto sicuramente una delle uno dei game changer che l'industria ha avuto è l'introduzione di git git è un source control moderno in realtà è più un file system virtuale però questo se ne può parlare in altra sede ci permette di sviluppare e utilizzare il branching in una maniera così semplice così veloce così efficace che non c'è più nessuno lo sviluppatore del non usare una branching strategy e quindi di non sviluppare il codice non più come un unico un'unica linea che dall'origine fino alla morte va avanti e quindi abbiamo versioni 1 2 3 4 1000 2000 3000 ma come qualcosa di più vivo più pulsante e più diciamo educato anche dal punto di vista dello sviluppo quindi normalmente siccome in nell'open source si fa uno incredibile uso di branch perché perché se io devo collaborare con una libreria non è che arrivo e prendo inizio a buttare codice nella libreria di massimo massimo se non mi conosce se non si fida ma in generale non mi fido nemmeno io del codice che scrivo io quindi perché devo andare sulla sulla branch principale e buttare lì del codice e magari spaccare qualcosa allora no lo facciamo con delle branch quindi l'open source vi obbliga volete contribuire a una libreria fate un fork fate una branch sviluppate un bug fix una funzionalità un qualcosa lo mettete tutto bello lì educato e poi andate dal maintainer della libreria e gli dite questa è la mia proposta una pull request questa è la mia proposta di modifica al tuo codice questo è fondamentale e funziona dannatamente bene anche per il codice inner source cioè anche per il vostro codice perché voi avete il vostro prodotto e se arriva il junior e gli fate fare una funzionalità magari non volete che il junior faccia una funzionalità che va in produzione domani o in generale che poi il junior fa la funzionalità a febbraio sta lì andate in produzione anche a giugno ma poi quando qualcuno pigia quel bottone esplode il vostro software perché magari il junior ha fatto uno stack overflow allora è tutta una buona norma ma soprattutto se voi sviluppate librerie ad uso interno è chiaro che ogni persona che usa la vostra libreria magari in un altro dipartimento avrà delle necessità ve le può sia chiedere e dire ehi gianmaria tu stai facendo la libreria di logging mi permetti di a fare il supporto di log dentro elasticsearch che non ce la che non ce l'abbiamo e io ti potrei dire non lo so cos'è elasticsearch allora anche tu puoi dire guarda io prendo la tua libreria faccio una branch faccio una pull request e miglioro la libreria e migliorate la maniera con cui le varie competenze della vostra azienda collaborano fra loro per creare un prodotto una libreria funzionante quindi il primo punto è una buona branch strategy e ne avete tante di solito c'è git flow che è la più conosciuta poi c'è github flow che è git flow un po più ridotto o c'è your flow cioè fate come vi pare nel senso datevi una nomenclatura una serie di regole l'importante è che si capiscano come sono le regole volete fare trunk based development abbiamo solo una branch master benissimo definite che ci sono solo le feature branch definite che la feature branch vive per solo x tempo se vi va bene andate quindi l'importante però che abbiate una maniera e che se possibile sia unica nella vostra azienda questo perché come l'open source l'open source non ha diecimila strategie di branching e ha poche c'è git flow github flow trunk based development in modo che una persona nuova che si approccia al progetto una persona nuova che vuole contribuire non deve inventarsi e pensare di capire adesso ho cambiato azienda oppure ho cambiato team come faccio a sviluppare è sempre così è sempre la feature o è trunk based quindi anche l'adozione dei principi di di open source che mettono delle regole chiare perché obbligano persone in tutto il mondo in differenti fusi orari di poter collaborare su una code base se le portate nella vostra azienda male non fa anzi fa molto bene e poi c'è bisogno di una version strategy perché anche qui qual è la versione della dll che sta nell'impianto in turchia e che non riesco a cui non riesco a far abbassare il livello e logging vai vai sul server in turchia vedi la data della dll vedi dalle tue mail più o meno quando già maria ti ha dato la data la dll e non funziona provi no c'è un bug a ok metto il fix e no però quella l'impianto in turchia è di sei anni fa la libreria ormai e valla prende la versione sei anni fa che ci fanno lo patch in turchia e quindi c'è l'omino che ogni giorno si sveglia va in turchia ogni due giorni e cancella i file delog per evitare che il server si riempogli ingrandite lo spazio al server perché poi alla fine la soluzione si trova che sia elegante o che non sia elegante la martellata c'è sempre ma se noi sviluppiamo una libreria interna e non abbiamo una chiara version strategy in cui io posso alzare le mani e dire dal cliente x ho deployato tre anni fa la 6.4.5 ho questa eccezione qual è il problema me lo risolvi c'è una patch devo sapere se c'è una patch devo capire se c'è un problema che è stato risolto e soprattutto dovrei essere in grado di analizzare lo stack trace tutte le informazioni di quel codice quindi vorrei magari dire ok vado nel mio source control prendo il tag 6.5.2 quello è il codice che ha generato la mia dll quindi il versioning è fondamentale e come version strategy fatto questo c'è la distribuzione cioè alla fine come il prodotto della mia libreria come viene rilasciato all'utilizzatore qui di scelte diciamo se lavoriamo in dotnet ne abbiamo poche perché c'è nugget e quindi si parte col concetto di avere un package manager system cioè un sistema che sia in grado di prendere dei risultati di una compilazione in questo caso in dotnet spesso sono dll più altri file di impacchettarli in un pacchetto di pubblicarli in un unico punto o in più punti volendo per fare in modo che un utilizzatore possa in maniera molto semplice molto banale prendere connettersi al central repository e quindi vedere diciamo di connettersi e andare a prendere tutte le versioni vedere quante versioni ci sono vedere se c'è una nuova versione e poi se usate già oggi dll package open source sapete benissimo che nugget anche tutta una sua modalità per poter marcare una versione come vulnerabile la sicurezza della supply chain negli ultimi anni è un argomento di security molto sensibile e che non può prescindere da versioning più distribuzione cioè io apro il mio viso studio vedo un triangolino arancione che mi dice che io sto usando la libreria x y z è vulnerabile c'è una versione nuova non è vulnerabile posso andare su github e vedere qual è la vulnerabilità posso anche decidere di non aggiornare perché quella vulnerabilità di quella libreria è una parte che non uso e tutto si basa su due pilastri versioning e distribution versioning la possibilità di sapere esattamente senza nessun problema quale sia la mia dll in produzione quello che sto usando ripetibilità ogni volta che io ricostruisco il mio software nel passato devo essere in grado di riutilizzare tutte le dipendenze del passato quindi un sistema di distribuzione che mi permetta di tenere tutte le versioni stabili e un tot magari quelle non stabili così che se io il mio software che sta in turchia fatto sei anni fa trovo un bug posso prendere la versione del mio software fatto sei anni fa in turchia prendere le librerie della versione che ho utilizzato quella volta sei anni fa e di scaricarle debaggare quelle librerie che un po' l'argomento di oggi con il codice di sei anni fa non con il codice di oggi e capire che se io sono stato l'unico sfortunato il termine inizierebbe con la s diverso ma sono stato l'unico sfortunato che dopo sei anni ho beccato un bug in un impianto al di là del globo di una dll che abbiamo sviluppato noi fatta sei anni fa sembra strano ma se la dll che fate è una dll che dialoga con plc il cliente gli si è fottuto termine tecnico qualche plc sulla linea e ha messo un altro cinese in altra parte queste cose capitano e se voi non ci avete modo di prendere aprivi su studio apri il codice dei sei anni prima con le con le stesse dll dei sei anni prima debaggare la dll dei sei anni prima e fa la peggio perché c'è il plc cinese sono problemi anche questo il termine non so problemi è più meno delicato tutto questo può essere fatto può essere può essere ottenuto solo tramite una completa automazione del versioning della distribution perché altrimenti le persone fanno errore quindi se noi ci speriamo che qualcuno che giammaria sia l'artigiano che dice oggi sono in una versione stabile quindi oggi pubblico la 2.0 quindi metto lì nel mio computer la compilo la metto la faccio l'impacchetto ci metto il numero l'infiocchetto e poi la distribuisco non funziona così per ovvie ragioni primo il computer di giammaria può avere un virus se distribuiscono dll col virus quindi la dll deve essere compilata possibilmente da una macchina che sia sicura qual è la sicurezza della macchina una macchina che vi compila vi fa girare le github action perché quelle sono macchine virtuali sono immagini pulite ogni volta che voi fate partire un workflow di github action lui parte prende il vostro codice la macchina è pulita perché viene ogni volta ripartita siete sicuri che non ci sia magari un virus non solo voi potete fare girare altri automatismi durante una pipeline di build che controlla ad esempio se nella vostra libreria referenziate a vostra volta delle librerie vulnerabili quindi potrebbe dirvi no guarda tu vuoi pubblicare la tua nuova versione da libreria ma prima dovresti aggiornare le tue reference a una libreria che tu stesso usi perché è vulnerabile e quindi le persone che salderanno la tua libreria potrebbero portarsi dietro una libreria vulnerabile quindi questo deve essere automatizzato in modo che nessuno debba fare questa operazione manuale lo sviluppatore scrive il codice fa un commit in git e poi parte un processo automatico che a seconda della branch dove sono del commit che ho fatto dei tag come esso stacca una versione univoca e fine dei giochi così la versione è automatica la pubblicazione automatica una serie di controlli sono automatici e riuscite a mettere un controllo su quella che è una supply chain interna quindi la prima cosa è che fortunatamente se voi usate git e usate un sistema di versioning standard git flow git hub flow eccetera eccetera c'è un tool che fa tutto per voi quindi c'è qualcosa già fatto git è il source control ormai quindi c'è un tool che si chiama git version che semplicemente lanciate in un repository lui vi tira fuori un json e con delle sue regole con un file di configurazione con tante cose che ci sono dietro è in grado di dire ok sto su questa branch ci sono questi tag stack un numero per esempio se sono sulla master o main e c'è il tag 5 2 0 la versione 5 2 0 se sono sulla develop che è solitamente quelle sviluppo lui dirà io sono su una torna indietro la develop torna indietro torna indietro la storia prende il tag 5 2 0 poi prende tutti i commit che ci sono e dice la develop come la chiamiamo è un alfa di solito la develop quindi la chiamo alfa trattino 0014 e 14 il numero dei commit che ho fatto in più quindi questi numeri sono sempre univoci e vengono fatti e vi garantiscono che se lo sviluppatore sviluppa sulla feature pippo la dll ci avrà il package nugget ci avrà il suffisso pippo quando fa su develop ci avrà alfa quando fa su release sarà beta quando fa su hotfix sarà beta e quando farà su master sarà stabile automatico fa tutto lui poi vediamo quanto è difficile farlo in realtà non è difficile c'è un tool che lo fa lo mettete nella vostra pipeline di compilazione fine la distribuzione la facciamo con nugget qua se lavorate in dotnet non penso che ci sia bisogno di spiegarvi cosa è nugget lo usiamo tutti fare un pacchetto nugget è molto semplice perché in dotnet abbiamo dotnet pack istruzione molto semplice per il vecchio dotnet framework abbiamo i file nu spec quindi possiamo utilizzare nugget come tool riga di comando quindi automatizzabilissimo la riga di comando che vi produce i file di package e attenzione se voi sviluppate una libreria la buona creanza è è un po l'argomento di oggi fare anche il package dei simboli perché tutto molto bello ma quando lo spiega il cliente alza la mano e dice tutto molto bello ma non lo posso fare perché è perché poi io prendo il codice dei sei anni fa è vero che è tutto bello è ma io oggi sviluppo prendo la libreria fatta da te poi c'è un eccezione punto eccezione dentro la libreria poi è una libreria interna quindi è vero che io la uso ma magari un po la uso un po la sviluppo quindi quando io la uso mi piacerebbe poter debaggalla no allora cavolo è scomodo quanto è più bello averci il file il progetto della libreria dentro viso studio e sta là dentro e allora se ci sono cose molto più esoteriche potete usare i submodule di git però andiamo a complicarci un qualcosa che in realtà è semplice cioè come facciamo noi a fare debug di codice sorgente se ci abbiamo solo la dll ora questa è una cosa che si fa non dico dalla notte dei tempi ma da qualcosa dall'alba dei tempi perché in realtà noi tutti quanti ma chi lavorava anche in c++ ma come come cavolo abbiamo vissuto fino a oggi c'erano i file pdb allora i file pdb sono dei file bellissimi perché tutti gli sviluppatori .net ma anche c++ sanno che esistono i file pdb ma poi forse nessuno sa bene quello che la gente c'è ma i release i pdb tu li fai perdonate ma sì cazzo ma che c'è dentro è la libreria dei simboli è un formato binario anche abbastanza complesso che però stabilisce in base al layout in memoria per il c++ per esempio ed è un eseguibile dove sta il sorgente eh ma non funzionano quando tu mi fai la dll e me la pubblichi perché ogni volta che io c'ho un'eccezione viso studio mi apre il pop up e mi dice dove sta il file mongolog.cs allora c'è il cliente più scafato che c'è la soluzione per tutto tutti gli sviluppatori prendono la libreria la installa la mettono nella stessa esatta posizione sul disco in modo che sia c develop library log ed uno dice funziona manco per il cazzo perdonatemi funziona ma io quando la quando il pdb va lì a prende il file prende la versione che c'ho lì io ma sai quante versioni ce ne sono perdonatemi il francesismo però voglio dire ragazzi possibile che nessuno ci abbia pensato in realtà sì perché in realtà microsoft dentro tfs lo fa da verso il 2010 questa cosa anche se una funzione oscura e poco conosciuta di quando fai la demo la gente ti guarda per dire wizardry cosa hai fatto invece è una cosa molto semplice fortunatamente microsoft questa cosa la semplifica e oggi arriviamo al livello di semplicità che è imbarazzante quindi se voi non pubblicate i simboli delle vostre librerie è imbarazzante perché significa semplicemente che non sapete che esiste e non perdete tempo a mettere quattro tag xml nel cs project più o meno sono questi con quei quattro tag accadono delle magie dietro allora la tecnologia che sta dietro il debugging del sorgente di una libreria garantendovi la possibilità di dire io c'ho la libreria l'ho scaricata nella versione 6.2.0 e quando vado in debug lui mi prende il sorgente della 6.2.0 anche se la master ormai è arrivata chissà dove questa tecnologia si chiama source link una tecnologia che microsoft ha introdotto col dotnet core un po di anni fa è così solida che non vorrei sbagliare ma in dotnet 8 è included by default cioè ormai il dotnet 8 automaticamente ha il supporto a source link per qui bastano veramente quattro attributi sul cs project che dite lo voglio usare lo voglio usare diciamo e perché quindi lo sviluppatore dovrebbe amare questi pdb file perché sono effettivamente quello che ci cambiano la vita quindi cosa succede il supporto si chiama source link c'è il ripositori su github che vi spiega esattamente come funziona se volete vedere i dettagli se volete vedere quali sono le tecnologie supportate eccetera eccetera di base funziona per viso studio viso studio code ma qualsiasi altro strumento di sviluppo la jetbrains non ho provato che sia in grado semplicemente di adottare una convenzione fatta molto semplice che stabilisce che nel pdb oltre al nome del file al momento della compilazione quindi dentro il pdb c'è un po scritto guarda questa variabile in questa funzione in questo layout di memoria era dentro il file c due punti barra dev e poi c'è diciamo un'ulteriore informazione dice in realtà questa la versione è github bla 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 quindi dove va a prendere i sorgenti che li supporta azure devops github github e anche ultimamente dovrebbe supportare anche repository git anche on premise patto che si debbano fare le configurazioni mi sembra e che cosa succede succede che dotnet è proprio ormai nativamente aware conscio di questa cosa quindi quando voi mettete due questi pochi attributi dentro il csproject e fate il dotnet pacco lui vi genera due file un file che è l'nupkg che è il file del package nugget e l'altro file che è l'snupkg il file dei simboli quindi ve lo genera lui vi genera un file che è un simile il package nugget contenente i simboli che viene pubblicato dentro nugget e nugget ha il supporto nativo al simbol package in modo che quando il vostro visual studio scarica la versione xyz di una libreria e voi andate volete andare in debug volete vedere qual era il sorgente che ha compilato quella libreria lui contatta nugget e prende l'snupkg lo apre dentro ci sono i file pdb prende il pdb lo legge e dice questo è compilato dal file che nel nella macchina dei github action stava lì ma in realtà è all'indirizzo dei git quindi va su github o su azure devops o su git lab prende il file in quella esatta versione che è stata usata per compilare il file e questo noi sappiamo che è sempre garantito perché git mantiene la storia di tutti i file a meno che voi non facciate una riscrittura della storia ma per questo sarete maledetti da qui all'eternità voi e i vostri figli e tutta la vostra progenie e se qualcuno mi dice e ho committato un secret per sbaglio devo riscrivere la storia ancora maggior ragione sarete maledetti voi e tutta la vostra progenie perché il tempo medio tre anni fa erano 24 minuti prima che qualcuno si accorga il vostro secret medio non ce la fate su github perché poi se potete provate i secret conosciuti se provate a far push github dici no non lo potete fare lo capita e io l'altra volta mi è capitato perché push non va orca miseria avevo effettivamente copiato e incollato su un file read me una chiave a mea culpa cioè capita eh ragazzi ok quindi check with https nugget info facciamo un po di non voglio farla lunga quindi cerco di tenermi corto ma vi faccio vedere un paio di cose allora eh quanti di voi conoscono nugget punto info minchia nugget punto info è un sito che serve per darvi un po più di informazioni sui package nugget cioè se voi andate su nugget cercate il package voi dite cavolo ci sono un sacco di informazioni nugget punto info vi dà un po di informazioni più perché poi vi spacchette il package vi faccio vedere una libreria stupida che è una robaccia mia è un supporto elastic search per kernel memory che mi faccio io ok eh voi vedete delle versioni se voi fate open quello che succede è che questo sito si va a scaricare proprio quella quella dll che ho compilato io e va a darmi delle informazioni informazioni un po più dettagliate e in queste informazioni noi abbiamo una parte che è molto interessante che è questa lui mi dice guarda io le dependency non te le controllo eh quello magari due le controllo a voi quindi se la libreria camferm che era il memory elasticsearch c'è un'altra dll con una libreria vulnerabile so fare i vostri però la cosa che mi dice quei tre scudini verdi mi dice valid with symbol server cioè mi dice guarda questa dll è stata pubblicata con un symbol server valido normalmente se voi non fate niente non è che ci sono tutte x delle volte c'è un una robaccina perché quando fai dot net pack qualche qualche simbolo magari delle volte con le opzioni che usate ve lo mette però deterministic dll valid questo è molto importante ci sono dei flag nel cs project che consentono di stabilire build deterministica il cui scopo è quello di generare una dll che sia più facile da debuggare adesso non entriamo nei dettagli e compiler flags valid cioè lui vede se i flag dei compilatori sono tutti a posto per farvi debuggare quando quelle tre quando quei tre scudini sono verdi voi state a posto quindi ora voi dite qual è lo sforzo necessario da parte di gian maria tra l'altro autors your name vedete quanto sforzo necessario ho fatto cioè è un posto di copia incolla no e poi questa è una libreria così un po diciamo che sto testando quindi è rimasto autori your name my name is your name mi presento ok ma è così semplice che non è che ci voglia ci voglia tanto guarda è così semplice che qua manco ci ha provviso studio allora sono un po di opzioni che vedete all'interno del vostro cs project che solitamente con il nuovo progetto di file di nuovo formato di viso studio introdotto illo tempore vi permette di introdurre anche tutte le informazioni sul package nugget all'interno del viso studio e qua avete embed untracked source true questo per esempio è importante questo dice quando il vostro progetto va in compilazione alcuni file possono essere prodotti per i progetti dotnet core ragazzi l'assemblinfo cs che non c'è più voi non ce l'avete più dentro il progetto lo produce lui ma se giocate con i generatori codice i file generati ci possono essere quindi dice attenzione attenzione quando fa il package perché io ho dei file sorgenti che potrebbero non stare nel source control ma essere prodotti alla build includili se non ce lo mettete vi fa lo scudino giallo e ve dice guardate la libreria simboli che avete pubblicato non è perfetta ci sono alcuni file che mancano quindi se voi avete dei generatori di codice che a runtime durante la compilazione scusate vi generano del codice e non ci mettete questo flag quelli non vanno nella libreria dei simboli quindi non li debuggate è una riga e ce la mettete symbol package format snoopy kg perché storicamente c'era anche un altro formato vecchio dei simboli sta andando in face out però esiste quindi è giusto che voi siate sicuri e dite io voglio usare il formato ufficiale nugget deterministic true è un flag che fa sì che la build sia deterministica quindi ogni volta che la fate su un build server sia deterministica importante anche e continuous integration build che dice guarda esiste un flag continuous integration build che fa sì che il compilatore prenda delle decisioni perché il la compilazione è in una macchina che sta facendo continuous integration io ho github action quindi dico guarda la variabile d'ambiente github action è true quindi questa è la semplice condizione che dice questo taggettino nel csproject è valido solo se quella variabile d'ambiente è presente chiuso questo è quello che fate a viso studio poi tutto il resto è author your name company your name copyright your copyright version 1.0 e la version ok facciamo un salto taggettino da un'altra parte e prendiamo un poderoso file powershell e qui chi fa powershell chi scrive powershell lo sa sicuramente meglio di me fare io però in generale io faccio le build con il powershell perché perché così se io faccio il file con powershell poi faccio github action ok chiamo il file powershell devo usare un altro azure pipeline chiamo il file powershell lo testo il locale chiamo il file powershell ok quindi lui sostanzialmente non è che fa gran cosa all'inizio si installa un build utils che è un'utilitina stupida che ho scritto io che so due tre script che mi servono per far veramente quelle due tre cose che 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 bastano e poi comunque qual è la la situazione abbiamo un dotnet tool restore questo qui permette di fare il restore dei tool di dotnet che stanno entro un file particolare entro la cartella punto config in cui voi dichiarate nel vostro source control che ci sono dei tool aggiuntivi di dotnet perché dotnet tool permette di usare il sistema di packaging di nugget per fare degli strumenti in questo caso io mi importo git version quindi che cosa faccio faccio version dotnet tool run git version confi bla 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 io gli dico guarda fammi girare fammi il tool git version questo mi fa un bel json se prende ti fa un bel json con tutti i numeri di versione out string me lo fa come stringa converta from json me lo fa in json poi io prendo powershell e dampo un po queste cose quindi dico guarda scrivimi un po quali sono tutte le versioni poi vado vado sotto faccio dotnet restore dotnet test e quindi per esempio questo dotnet test non serve per la pubblicazione però per esempio lo uso e poi lo faccio analizzare da sonar cloud giulio giulio pensavo mi sputasse ma invece no ok alla fine grande complicazione dotnet pack dotnet pack il cs project e poi delle grosse configurazioni che semplicemente mi dicono in particolare quali sono le versioni prese da git version quindi io con qualche riga di powershell faccio file versioning le dll hanno la versione che voglio io il nugget package c'è la versione che voglio io e comunque quattro veramente quattro attributi in croce e fa la pubblicazione ai simboli fine cosa ottengo con questo ottengo che quando faccio girare le mie action e quindi prendo l'ultima action che la vecchiamo qua prendiamo la build e vediamo lui che cosa fa vabbè lui fa delle fa delle robacce alla fine lancia il mio build and publish perfetto quindi come vedete lui git version output si vede male perché non è formattato ma è del json quindi è del json lui in base a git version in base a semantic versioning questo trovate online qualsiasi tipo di risorse volete dice che l'assemble è lo 0 6 3 0 e il nugget è 0 6 3 lo fa lui automaticamente ogni commit ogni commit univoco voi fate commit mandate pubblicate e lui automaticamente per ogni commit vi fa una versione voi dite ah ok ma se me la fa non nella master quindi che ne so prendiamo una develop vediamo se ho beccato questa immergere chiusura secondo me fammi vedere vediamo ok 0 7 0 alfa 0 20 dopo non stiamo a discutere su 20 perché 20 perché ci sono un sacco di opzioni per git version veramente tantissime però lui fa un numero univoco ok bene quindi avendo questo numero univoco voi andate avanti lui fa le sue cose e poi fa dot net pack quindi a un certo punto fa dot net pack e poi successively created package snoopy kg quindi mi ha creato il package dei simboli in base a le quattro opzioni che ho detto io e poi fa push quindi alla fine ne fa push e quindi eccoli qua ne fa il suo push stop niente di complicato me lo fa la build automaticamente io da nugget punto info vedo che sono a posto e quindi che cosa succede alla fine succede che io apro viso studio per esempio provo a caricare quella libreria stupidissima che è la libreria quella kernel memory eccetera eccetera apro qua dentro dico new kernel memory elastic search config f12 go to definition ora questa è una libreria se voi siete abituati con viso studio che ormai quando fate f12 vede compila il codice ci sono i commenti cioè lui ha preso il file sorgente reale se io da un grado la libreria in nugget e prendo la 6 la 0.6.1 e faccio f12 mi prende l'altro è come se c'avessi il codice sorgente qui e la stessa cosa accade in in debug la stessa cosa accade su un server in produzione quando c'è un eccezione e a voi vi arriva l'eccezione o un memory dump fate un memory dump dell'applicazione in produzione fate doppio clic su viso studio e debuggate il sorgente esatto della costa della roba sta in produzione permettetemi tanta roba faccio f11 questo non ve lo fa al decompilatore se inizializzazioni sto debuggando il codice sorgente originale grazie al grande sforzo di aver messo quattro attributi sul cs project grande grande sforzo grande grande che questo cosa succede allora prime cose perché qualcuno ci ah ma non funziona attenzione dovete prendere dovete prendere il vostro viso studio e togliere l'opzione enable just my code perché quando avete un progetto enorme il caricamento dei simboli rallenta un po viso studio quindi delle volte potreste non volerlo il settaggio enable just my code dice a viso studio voglio fare il debug solo del codice mio che ho dentro viso studio quindi anche se tu sei in grado di prendere il codice dall'altra parte non lo fare perché perché c'è bisogno di tempo nel caricare i simboli tra l'altro se voi andate sul tab dei simboli abbiamo cose interessanti in questo caso è carica tutti i moduli a meno di escluderli perché perché attenzione quando voi togliete just my code ve carica i debug i pdb del framework quindi potete debuggare anche il sorgente di microsoft tranquillamente magari non volete caricarlo tutto quindi potreste di guarda la mia ditta si chiama pippo caricami solo le librerie gli assembli che ci hanno pippo nel nome ci potete giocare e altro importante avete questa bella cache symbol in this directory ora se la guardate andate a vedere andiamo a vedere cosa c'è dentro ci sono un tot di cartelle kernel memory elastic search pdb vedete abbiamo delle versioni quindi lui è in grado di prendere la versione questo non è un commit di git ma è un identificativo interno di pdb che fa l'indicizzatore dentro c'è un file pdb è binario noi adesso l'apriremo con notepad per vedere però quello che anche se l'aprite con notepad vedete che github user content al camfer git uno c'è lui dentro ai riferimenti alle versioni dei file esatte ok quindi è questa la magia che c'è dietro non è nulla di complicato funziona e sono quattro veramente quattro opzioni in riga in riga sul sul cs project ora qualcuno dirà è bravo già maria ma io mica pubblico sul nugget anche azure devops va benissimo azure devops c'è un piccolo problema ancora qualche mese che non controllo ma non supporta gli snupk g di default quindi lui ha una sua modalità col feed nugget interno per gestire i simboli che è una modalità diciamo più vecchio stile quindi nella vostra build nella pipeline dovete introdurre un publish symbol ci sono dei task da mettere che fanno però anche lì tutto per voi ci sono dei glitch delle volte su alcune opzioni che dovreste mettere sul cs project ma in realtà le trovate io io ce l'ho bloggati nel 2013 questa cosa nel 2013 qualche blog che spiega come si fa sta roba con iis quindi è una roba vecchia vecchia e quando state dentro viso studio unica nota dentro la libreria dei simboli premete il bottoncino aggiungi il server e date accesso al vostro viso studio a devasure.com slash il server che volete perché lui chiaramente deve capire non è che può andare github è l'unico è github e devasure.com ce ne so 10.000 non è che può provarli ad cazzo perdonate stop detto questo quindi anche su azure devops stessa identica esperienza fine questo è un po recap github e github version vi danno la possibilità di avere c'è versione automatica debug in maniera molto semplice i vantaggi sono quelli di avere un una uno sviluppo più streamline ma soprattutto le persone fanno le librerie si abitano scrive gli unit test quando tu c'è un bug fanno un unit test per replicarlo versioning riproducibilità delle build prendete codice dei cinque anni fa fate f11 e funziona bonus artifact attestation ma github introduce una maniera per dare un hash crittografico ai vostri package e quindi garantire che chi si scarica la mia dll possa fare la verifica e verificare che nessuno ci abbia fatto tampering questi sono i miei contatti e questo è il qr come sempre se avete domande io sono in giro non rubo tempo agli altri spero che la sessione vi sia piaciuta mi trovate in giro per domande